Una serie di martinetti idraulici che a mano a mano vengono posizionati a sostegno della struttura rimasta senza appoggio a seguito dello sprofondamento del 16 agosto scorso. Inizia così la seconda fase dell'intervento d'urgenza messo in campo all'ex modernissimo dai tecnici incaricati dall'amministrazione comunale di Lanciano. È l'ingegnere Pasquale Di Monte a dirigere i lavori in cantiere nel piano interrati dei negozi Giusefine e Martelli interessati dall'ampia voragine. Il riempimento con il pietrisco realizzato il primo settembre ha sortito effetti positivi. Il materiale drenante al tempo stesso incomprimibile spiega il professionista sta penetrando nel terreno dopo un assestamento di circa 5 centimetri. A sostegno del pilastro rimasto sospeso nella prima fase dell'intervento d'urgenza erano stati già inseriti due puntoni in legno. Si lavora per gradi spiega l'ingegnere Di Monte al Tg Max. Ogni intervento è calibrato in base alla risposta del precedente. I martinetti idraulici assicurano anche maggiore resistenza al trambusto inevitabile dei concerti delle feste in piazza plebiscito. Il problema potrebbe essere provocato dalle basse frequenze spiega l'ingegnere. In vista della folla attesa per le serate clou di sabato e domenica sono stati realizzati dei rinforzi anche per la barriera che delimita l'area interessata dalla crisi del corso. Le transene sono state legate tra loro e unite da un tondino di ferro. In più sono state installate delle strutture realizzate con tavole di legno a bloccare le basi.